Dopo la frattura con il Partito Democratico, Roberto Verdecchia rilancia e conferma la candidatura a consigliere comunale in appoggio a Giovanni Di Pangrazio. Una candidatura come al solito, come consigliere, in una delle tante liste, nei confronti di una persona che mi ha sempre ospitato, tra virgolette ospitato, nel suo range politico, e chiaramente che ha condiviso, e io ho condiviso con lui, lunga parte del mio percorso politico. Un progetto politico che ruota attorno alla figura dell'ex sindaco e un programma politico che porti ad un punto di rottura con il recente passato dall'amministrazione De Angelis fino alla stagione del commissariamento. Tutto l'opposto di quello che ha fatto un sindaco che ci ha portato a una rovina infinita per 23 mesi e 10 giorni. Chiaramente un commissariamento che oramai sta sulla bocca di tutti, che dura da oltre un anno e quasi sei mesi. Mi sembra che sia un po' eccessivo questo commissariamento, ma non per il dottor Passerotti, ma forse perché c'è stato anche il Covid, perché altrimenti già a maggio di quest'anno avremmo avuto un nuovo sindaco. Temete più una coalizione guidata da Mario Babbo, forte dell'alleanza con PD, con Italia Viva, o temete un eventuale centrodestra unito, anche se l'intesa tarda ancora ad arrivare? Non sottovaluterei nessuna delle due componenti politiche che mi sono state dalle indicate. Sono entrambe valide e sono ottimi schieramenti sia dall'una che dall'altra parte. Verdecchia torna anche sul divorzio burrascoso dal PD che aveva indicato nella figura dell'avvocato il candidato alla poltrona di primo cittadino un'investitura naufragata a suono di attacchi frontali al segretario regionale Michele Fina. Dal momento in cui il partito aveva deciso la mia candidatura, già il giorno dopo ho avuto strane avvisaglie. Poi se queste avvisaglie, è stata una unica avvisaglia, ho 35 avvisaglie, come le ho contate io e le ho contate bene, visto che le ho sentite una per uno. Tutte le persone che mi venivano a riferire mi mettevano nero su bianco di questo, quindi molto probabilmente qualche d'uno aveva forse in mente già il comportamento che bisognava assumere come partito democratico, mandando avanti una testa da riete che sarei stata io per poi dirigersi verso altri liti. Questo non lo consento a nessuno nella mia vita, né professionale né politica. Qual è la cosa che l'ha, tra virgolette, ferita di più? Sapere dall'inizio, ma non volevo sentire e credere soprattutto a quello che mi venivano a riferire le persone, che era stato ordito un piano ai miei danni, chiaramente, per poter poi convergere nei confronti dell'altra persona, che nulla c'entra il collega che è stato proposto come candidato sindaco. Senta, dopo la spaccatura è intervenuto anche l'ex sindaco De Angelis e lei vuole rispondere alle sue dichiarazioni? Non conosco questo signore. Grazie.